gustavo partiamo da un gesto che è stato molto significativo il tuo abbraccio a ferrario subito dopo il gol di domenica si potrebbe dire da fuori è un tuo concorrente però sei stato il primo ad andargli incontro nel momento del gol diciamo che il primo è stato cortinovis che secondo me più veloce di me allora partisco sì sì è stato ma è spontaneo cioè alla fine siamo qua per un'unica cosa penso che poi con carlo dal primo giorno ci siamo capitati nello stesso posto dello spogliatoio uno a fianco all'altro conoscevamo nostro amico entrambi sì ci siamo avvicinati un po a livello oltre il calcio nella chiacchiera e mi sono ci siamo avvicinati troppo tanto fra noi due si si è creato un gran rapporto con lui e sì mi tocca a uno di due gioca e l'altro aspetta ecco però comunque sì è stata una cosa spontanea non non lo so non ci ho pensato cioè voglio vincere voglio vincere le partite voglio fare voglio che la squadra vinca e mi fa piacere chi segna segna mi fa piacere sono contento e se il Modena vince perché si sulocano le partite che per noi sono le cose più più importante più dure a livello a livello campo questa partita con l'Axis che tipo di match vi aspettate sì cioè mi aspetto una partita come quelli che stiamo vedendo un po' tutti un po' un po' la partita di Mezzolara sono squadre erognose che ti possono mettere in qualsiasi momento in difficoltà su qualche pallina attiva su su qualsiasi disattenzione nostra perciò bisogna cercare di di essere concentrati al cento per cento e cercarla di sbloccare il prima possibile per poi riuscire a fare il nostro sciocco come stai vivendo questo tuo avvio di stagione un pizzico di sfortuna all'episodio del rigore sbagliato la traversa la prima giornata di campionato in attesa di un'altra chance sì sì questo fa parte del gioco fa parte delle scelte dell'allenatore la prima partita mi ha toccato a me per il problema di Carlo che era squalificato dell'anno scorso della stagione scorsa il rigore è acqua passata si è vinto quella partita sono contento sì diciamo che ho rosicato ancora mi frulla un po' in testa però non è un problema ne ho sbagliati li ho fatti la squadra vince e niente aspettando il mio turno cerco di dare il massimo in settimana e cercare di mettere in difficoltà il più possibile l'allenatore per esserci se mi tocca essere pronto diciamo una coppia con ferrario sarebbe una cosa impossibile siete una siete alte rego uno con uno al posto dell'altro no 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 io credo che insieme possiamo giocare ma non sono domande non sono risposte che mi tocca farle a me credo che l'allenatore faccia le sue scelte se lo fa lo possiamo fare tranquillamente ecco siamo due giocatori con tanta esperienza non non credo che uno se c'è uno non possa non possa esserci l'altro insomma non vi pestate i piedi come ci sono no 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 assolutamente assolutamente siamo abbiamo caratteristiche caratteristiche diverse Carlo è un ragazzo che che vive molto per il gol è sempre nel nel centro porta io riesco a riesco a muovermi su tutto il fronte d'attacco penso che se Carlo gioca con me si adatta anche le mie caratteristiche c'è un ragazzo con tanta esperienza non penso che se cambia se cambia modalità di gioco ecco che giocando con tre punti è normale che uno deve coprire solo il centro dell'attacco giocando con due devi dividerti il campo in due domenica quando sei in grado qualche occasione l'hai avuta non sei stato fortunato no no domenica non ho avuto cioè ci siamo messi un po' abbiamo rintresciato un po' le linee allora sono entrato per tenere pala per cercare di di far salire la squadra e sì abbiamo un po' smesso di giocare gli ultimi dieci minuti ecco perciò sì è un altro lavoro è chiesto non non si faceva dura creare gli ultimi dieci minuti però va bene così dai tocca tocca fare questo lavoro è un lavoro sporco che fa la punta che che bisogna farlo ecco ti chiedo hai tanta esperienza in questa categoria il modena è sulla strada giusta per vincere il campionato il modena sta prendendo la strada giusta ma siamo ancora molto molto all'inizio abbiamo iniziato una preparazione siamo in tanti bisogna cercare di amalgamare tutti gli prima di tutto tutte le personalità dentro lo spogliatoio poi bisogna amalgamare un po' le le dinamiche di ogni ogni giocatore stiamo sì stiamo andando sulla strada giusta però siamo molto all'inizio credo che se continuiamo a stare attenti allenarci come ci stiamo allenando allenando non 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 avremo problema a fare un campionato da vertice poi il campionato è lungo la palla dentro il palo dentro palo fuori non lo decidiamo noi noi cerchiamo di lavorarci per andare che faccia palo dentro che faccia palo dentro no però è un campionato lungo difficile dove le squadre aspettano il modena come mi ha toccato a me quando ho dovuto giocare contro il parma contro società si squadre grosse che che non vedi l'ora di giocare sono partite a sé a parte ci danno ci danno tutto noi dobbiamo essere pronti a queste a queste piccole battaglie ecco grazie mille grazie gustavo perfetto ok